L'assessore regionale Le Politiche del Lavoro Pietro Quaresimale ha incontrato i rappresentanti della Betafence a seguito della notizia di possibili 60 esuberi nello stabilimento di Tortoreto. Attualmente, ricordiamo in base ad un accordo sindacale dell'anno scorso, i lavoratori sono sotto contratto di solidarietà che è stato prorogato nel frattempo di un altro anno, questo per permettere di spostare l'uscita dei lavoratori all'estate 2023. Nel frattempo la regione Abruzzo sta supportando l'azienda anche in ottica di politiche attive del lavoro. Sì, sono stato presso il sito della Betafence a Tortoreto, ho fatto un primo incontro lì nel piazzale con i lavoratori e i sindacati, poi ho avuto un colloquio con i vertici dell'azienda, abbiamo fatto un po' il punto della situazione, loro praticamente sono disponibili a dialogare sia con i sindacati che con l'RSU e quindi ho ritenuto, vista la preoccupazione dei lavoratori, di convocare un tavolo regionale per il 24 maggio nella sede dell'assessorato. I sindacati sono preoccupati che tutto il lavoro fatto in questi ultimi anni venga vanificato? Allora, la Betafence innanzitutto ha dato la disponibilità a un altro anno di contratto di solidarietà, questa è una cosa molto importante. In ogni caso dobbiamo valutare il piano industriale, vedere le strategie di questa azienda, comunque hanno ribadito che l'azienda rimarrà a Tortoreto, seppur con nuove linee produttive. Comunque lei si è impegnato in prima persona a cercare di trovare una soluzione? Sì, sì, ho preso a cuore sin dall'inizio questa avvertenza, voglio ricordare che la Betafence voleva trasferirsi in Polonia, abbiamo scongiurato questa cosa e adesso continueremo a mettere del nostro, mettendo in campo ogni misura di competenza regionale. Ma preoccupare ancora di più lavoratori e sindacati è il fatto segnalato dal consigliere regionale Marco Cipolletti, che ha annunciato che l'azienda ha rinunciato alle autorizzazioni per la plastificazione di file e pannelli e alla seconda vasca di zincatura, una scelta definita dai sindacati incomprensibile, ma anche di rifiuto ad ogni ulteriore sviluppo futuro, a meno che le reali intenzioni non siano altre.